si è svolta lo scorso lunedì la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso premio del conservatorio casella organizzata con il sostegno della fondazione carispac il premio ha dato il via all'edizione 2021 della festa della musica e si è svolto nel conservatorio alfredo casella dell'aquila sono stati oltre 200 i lavori selezionati dalla giuria composta dal direttore del conservatorio claudio di massimo antonio dai docenti marcello bufalini e mariella di giovanni antonio dal direttore artistico dei solisti aquilani maurizio cocciolito dal delegato isa massimo martuscello dal delegato della società dei concerti barattelli sabatino servilio e dal delegato della fondazione carispac gaetano di bacco alla cerimonia di premiazione hanno partecipato del presidente il direttore del conservatorio casella domenico denardis e claudio di massimo antonio il presidente il segretario generale della fondazione carispac domenico taglieri e david ignem una prima edizione venuta bene riuscita benissimo inizialmente insomma è stato un po difficile perché come tutte le prime cose vanno prima coordinate bene cioè prima di essere messe appunto come si deve vanno studiate però siamo soddisfatti sono soddisfatti i ragazzi soprattutto i professori che hanno preparato questi ragazzi e speriamo appunto che sia la prima di una lunga serie una lunga serie dedicata a quello che è il nostro rappresentante della dell'istituzione c'è grande alfredo casella e quindi merita questo riconoscimento la festa della musica finalmente si riparte si riprende in presenza lo scorso anno fu fatto in streaming si riprende in presenza e l'occasione è stata proprio approfittare di questa ripresa per premiare i ragazzi una giornata piena di musica piena di tanta bella musica di iniziative di ogni genere musicale dal diciamo dal colto al popolare al jazz aperta alla città e soprattutto in questa giornata di musica suoneranno insieme professori e studenti quindi fanno direttamente come dire formazione sul campo